Benvenuti su MyFootballGersey. Vediamo la seconda maglia dell'Arsenal per la stagione che sta iniziando la 22-23 in edizione Player. Grazie per la visione! Maglia indubbiamente molto bella, particolare e fuori dagli schemi. Qui in alto vedete il costo? Su questo non aggiungo altro, si commenta da solo. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quali fantastiche sorprese il sito prepara per voi. Prima di lasciarvi la parte finale vi chiedo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player.